o le mvp di questa partita una partita che era difficile alla vigilia lo è stata comunque al netto del bel 3 a 0 che ci portiamo a casa una vittoria importante che dà continuità al nostro percorso sì penso che oggi abbiamo fatto un altro passo avanti a muro soprattutto dopo come sempre abbiamo stato una squadra e quindi anche ora questo è importante perché abbiamo avuto momenti difficili in campo quindi questo era un chiave importante che devi stare sempre uniti insieme e così possiamo fare così i risultati come oggi senti grande prova da parte tua mvp di questa partita se vuoi raccontarmi quell'alzata in bagger da seconda linea c'è stato un momento dove ci hai stupito a tutti mi sembra che devi tagliare sì io ti spiego come ho fatto ma no a questo partito più importante per me è stato da fare una una difesa in tuffo quindi oggi ho fatto penso che anche due forse basta lì quando faccio difese in tuffo lì è partita per me è finita grazie 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 a lei grazie a tutti